Ci sono problemi all'interno della maggioranza del Consiglio Comunale. A dirlo il gruppo di Grande Catania che oggi ai nostri microfoni analizza ancora una volta la questione dei debiti fuori bilancio. L'opposizione vota favorevole nella maggioranza, la spaccatura si fa più evidente. Il capogruppo Giuseppe Castiglione lancia un invito al sindaco Enzo Bianco. Intervenga direttamente in aula, magari la sua presenza spingerà i suoi consiglieri ad assumersi le loro responsabilità. Noi abbiamo votato i debiti fuori bilancio, la parte dell'opposizione. La maggioranza non è stata in aula e quindi per ben cinque volte è stato sospeso il Consiglio Comunale. Credo che ci siano dei problemi all'interno di questa maggioranza. Ricordo bene, ricordo ai cittadini che ci sono circa due terzi del Consiglio Comunale formato da consiglieri di maggioranza, però forse il sindaco non riesce a portarli in aula questi consiglieri. Noi chiediamo che il sindaco venga in aula a chiarire questa situazione, perché non è possibile che non si assumano i consiglieri di maggioranza, quindi quelli che sostengono l'amministrazione a bianco delle responsabilità. Noi l'abbiamo fatto in segno di responsabilità per quanto riguarda i cittadini e sicuramente questo continueremo a fare. Un'opposizione seria e costruttiva per la città, però non è possibile più. Intanto chiedete al sindaco proprio la sua presenza. Noi chiediamo al sindaco la presenza, perché può essere che con la presenza del sindaco i consiglieri di maggioranza si fanno notare e si fanno vedere. Io non voglio entrare in merito a quello che accade. Sicuramente i consiglieri di maggioranza per non essere in aula avranno delle difficoltà con questa amministrazione, come ce l'abbiamo noi e come ce l'ha tutta la città.